Musica Prefila Negri, Fulcic, Samoil, poi di Boni Venturi Attenzione giusto il tetto per arrivare per le torri Spada il Fulcic Musica Davide Negri è lì per cercare di rimuovere la festa, lo vado a andare subito all'interno Davide, non si riesce ancora, sa che il Borghi terrà l'interno, lui va all'esterno ma non riesce a passare, sarà durissima, saranno sette giri, cattivi cattivi con un tardino in terza posizione, Amatori che va all'attacco di Serini, tanta riguaglia per il momento, vediamo se ci riesce anche alla grande Davide Negri, se riesce si vada a giocare Davide! Davide Negri! Negri, Dimorni, Gnardin, Serini, poi Cursor che sta cercando di attaccare, Ambrozek attacca Serini, ma resiste Serini ancora in quarta posizione, in questo momento il podio è Italia, Repubblica! Parliamo un po' perché ora stiamo vivendo tanto! Parliamo un po' perché ora stiamo vivendo tanto! Parliamo che questo sia l'ultimo giro! Parliamo un po' perché l'ultimo giro! Parliamo un po' perché l'ultimo giro! Parliamo un po' perché cura Grazie a tutti 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 Grazie a tutti